Pari retribuzione, permanenza e reinserimento nel mondo del lavoro. Equo accesso alle posizioni apicali, valorizzazione delle competenze, conciliazione, tempi, vita e lavoro, diffusione di una cultura organizzativa non discriminatoria nelle imprese. Sono alcune delle proposte contenute nel disegno di legge regionale recante disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere presentato dai gruppi consigliari di centro-sinistra. In sintesi 4 milioni per promuovere la parità di genere. Polucci, favorire l'equità retributiva in che modo? È una proposta di legge quella che abbiamo depositato che è mutuata dalla regione Lazio in corso di sperimentazione in diverse altre regioni e che aggredisce questo ed altri temi per la parità di genere sul mondo del lavoro e non solo su diversi aspetti. Fino a 4 milioni di euro tra premialità negli avvisi per quanto riguarda i bandi, laddove si può ovviamente dimostrare che questa parità nella propria azienda è appunto accertata e allo stesso tempo una premialità per il microcredito, per quanto riguarda il fondo di garanzia, per quanto riguarda il babysitting e il caregiver. Tutte misure in grado di poter aiutare quello che è un fenomeno ed è una grande purtroppo piega in questo paese ma ha maggior ragione in questa regione. Segnale significativo per il dopo pandemia? Assolutamente sì perché la pandemia ha aggredito ancora di più proprio il tema di genere e di generazioni, allargando i differenziali tra quello che è nel mondo del lavoro, la differenza appunto per quanto riguarda le generazioni e quella di genere. Noi vogliamo intervenire lì con delle misure precise, ci aspettiamo una rapida calendarizzazione di questo disegno di legge e un contributo di tutti, di tutti i gruppi politici, del governo regionale, della tecnostruttura, delle forze sociali, delle associazioni e delle parti sociali a disposizione dell'intera regione.